In primo piano Nella seduta del 13 marzo il Consiglio regionale ha eletto Roberto Boniperti, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa su Balpina. L'elezione ha scrutinio segreto e sensi del regolamento interno e è venuta con 27 voti favorevoli su 40 votanti. Il gruppo del Partito Democratico non ha ritirato la scheda per protesta contro la mancanza di donne nell'ufficio di presidenza. Intanto vorrei ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata. Penso che tutto sia dovuto dal fatto che ormai sono sette anni che frequento questo Consiglio regionale, che rappresenta una provincia novara che ha tanto lavorato per la vittoria di Roberto Cotta e nella parte del Partito del PDL del Popolo della Libertà non aveva ancora avuto dei riconoscimenti. Cercherò di fare del mio meglio per onorare questo incarico di cui sono molto orgoglioso.